Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento quindicinale dove parliamo degli eventi che hanno caratterizzato questi 15 giorni, non abbiamo molto tempo e quindi dedichiamo anche questa puntata al movimento dei gilet gialli, dei gilet jaunt, di questo movimento francese che è abbastanza rilevante per come è nato, che contraddizioni porta, le analisi che gli stessi borghesi fanno sul movimento. Quindi iniziamo subito prendendo uno spunto, prendendo uno spunto a un articolo che è apparso sul Corriere della Sera il 4 dicembre di quest'anno a firma di Pierluigi Battista, il titolo era le rivolte anti-elite, nate dalla rabbia più che dai conti, dice che secondo lui in vari paesi da cui Francia, Italia, gli Stati Uniti, Germania ed Inghilterra, il ceto medio sta facendo i conti con il peggioramento dei livelli di vita. Cito questa piccola frasetta che dice lui e dice sono, quindi i ceti medi, i condannati all'esclusione culturale, alla marginalità, alla irrilevanza sociale che si sentono più poveri anche se possono mantenere un suffo. Ed è la paura dell'impoverimento, più dell'impoverimento in quanto tale che agita e scuote un ceto medio declassato, assediato dai nuovi dannati della terra che marciano numerosi, questo era il riferimento agli immigrati, quindi nuovi dannati della terra che marciano numerosi a distruggere un'identità sempre più incapace di difendersi. Il ceto medio, non solo i diseredati orfani delle protezioni fornite da un robusto welfare state in declino. Ecco, questo secondo me dà proprio giusto all'immagine in poche righe di qual è il movimento dei gilet gialli, un movimento eterogeneo dove si può sentire da no all'esclusione degli immigrati, a sì chiudiamo le frontiere, a molte richieste contraddittorie, l'unica cosa che gli accumuna è proprio il fatto di sentirsi impoveriti, sentirsi come ceto medio schiacciati fra la grande borghesia e il proletariato, perché i ceti medi succhiano il plus valore dal proletariato da una parte, dall'altra dal ceto me, dalla borghesia, però ormai il plus valore ce n'è sempre meno e quindi lo vediamo quando aumentano le tasse, le possono aumentare solo a chi ha soldi e per il momento al ceto medio, ai grandi gruppi industriali, anzi danno agevolazioni, quindi prendono dal ceto medio per darlo alla borghesia e lo vediamo anche noi in Italia, insomma in fondo è un modus operandi comune. Nella stessa linea quindi troviamo anche un altro giornalista che fa un'analisi del genere, si chiama Stefano Folli, che sulle pagine di Repubblica attraverso l'articolo con il titolo Roma, Parigi e Europa delle debolezze, osservava che se l'incendio francese continuasse a divampare, Macron, che non ha ancora mai parlato ma dovrebbe parlare questa sera o al massimo domani, avrebbe bisogno della solidarietà europea per placare il malessere dei ceti impoveriti, in quel caso non sarebbe possibile negare all'Italia ciò che viene concesso alla Francia, quindi è un riferimento molto intelligente su questo, quindi se viene concesso alla Francia alcune cose da parte dell'Europa per placare questo movimento dei gilet gialli, certamente non si può negare anche all'Italia che in continuazione va a mediare e poi vedremo anche qua è interessante da come si è partiti a rivedere l'Europa, a sconvolgere tutti i parametri, non retrocederemo di un millimetro ad arrivare a tagliare sulle promesse, cioè quindi la quota 100 e anche il salario di cittadinanza pur di rimanere all'interno del sistema, poi ne parleremo. Il fenomeno francese dei gilet gialli è dunque un prodotto, quindi l'impoverimento, è nello stesso tempo un fattore di instabilità politica e sociale. E cosa ha di caratteristico questo movimento? È l'anonimato. L'anonimato è peculiare dei movimenti che sono nati sull'onda, ricordiamo, della primavera araba e per adesso sembra che il movimento francese riesca a mantenersi leaderless, cioè senza nemmeno, senza un leader. Io ho seguito un po' su Facebook, se guardate, cliccate, cerca gilet jaune, potete vedere anche, chi non sa il francese c'è la possibilità di tradurre Google, lo traduce in automatico, cosa dicono, come si organizzano, che cosa pensano e chi ha tentato come qualcuno, il governo francese ha tentato di dividere tra i gilet gialli buoni e quelli cattivi, quelli più accondiscendenti, quindi adesso li sta dividendo e quindi vuole parlare con, diventano soggetti di mediazione tra tutte queste proteste, chi è più moderato e quindi automaticamente esclude tutta un'altra parte. Ma però, c'è un però, se andate nel sito vedrete che la maggior parte delle persone non riconosce, non si ritrova in questi che sono, si autodefiniscono rappresentanti dei gilet gialli e si fanno molto spesso, voi potete leggere, chi li rappresenta, chi li ha votati per che vadano a mediare o a trattare con il governo. La classe dominante teme di ritrovarsi di fronte a un movimento anonimo che si auto-organizza in rete e non risponde a nessuna forza politica parlamentare, anche le forze di polizia francesi esprimono un certo disagio dovuto alla velocità e all'effetto sorpresa costituito dai flash mob e dai blocchi non autorizzati, cioè questi si organizzano di qua, di là senza molto, senza una cosa preventiva, come finora noi abbiamo sempre visto gli scioperi organizzati da organizzazioni che potevano essere sindacali, potevano essere partiti i quali annunciavano per tempo cosa avrebbero fatto, il percorso eccetera, tutto dentro imbrigliato a leggi che così dite volevano rispettare la mobilità dei cittadini, il diritto di una mobilità preventiva, bisogna venti giorni prima e tutte queste cose, no questi si organizzano, decidono e vanno, è un po' qualcosa al di fuori di un modus e quindi operandi, quindi la borghesia è un po' spiazzata su questo, infatti cerca di dividere il movimento, manda la polizia, si sono stati domenica, sabato più di un migliaio, quasi duemila arresti preventivi, cioè si agisce anziché risolvere la questione in modo politico, si cerca di risolvere in modo poliziesco e quindi questo dimostra una debolezza della politica. Sembra che una parte dei gilet gialli voglia trattare con il governo, l'altra, quella più radicale, non accetta di sedersi al tavolo con le istituzioni e vuole le dimissioni del governo. Per ora i gilet gialli rappresentano un miscuglio di classi che chiedono il cambiamento, cambiamenti allo Stato, come ho detto prima, questi chiedono allo Stato o l'aumento del salario minimo o l'abbassamento delle tasse, chiedono sempre allo Stato, quindi non vogliono un cambiamento del sistema, sempre all'interno del sistema, come un po' 5 Stelle o Salvini. A questo punto mi veniva a mente la lettera di Marx ad Annenkot del 1846, dove diceva che la piccola borghesia sarà una parte integrante di tutte le rivoluzioni sociali che si stanno preparando e lui la teneva molto in considerazione, era molto attento a questo, anche perché le prime lotte, come diceva prima il giornalista del Corriere, che al primo a muovere si sono quelli che avevano avuto, quindi i centi medi, che avevano avuto un certo benessere e adesso si vedono regredire e questo li fa muovere molto di più di chi è abituato ad essere tartassato, ma anche perché comunque all'interno delle fabbriche chi vive all'interno del mondo del lavoro ci viene sempre con questo istituto intermedio, che sono le organizzazioni sindacali, predicato che vabbè dai non protestiamo, altrimenti l'azienda non riesce a essere concorrenziale nei confronti degli altri, è meglio un brutto lavoro, ma avere il lavoro, il salario non basta, è vero però è meglio avere un salario anziché non averlo e quindi c'è tutto questo modo, siamo abituati e io vivo in fabbrica e lo sento tutti i giorni abituati a questo calmiere della parte delle organizzazioni sindacali alle quali sembra che abbiano più a cuore nei profitti aziendali anziché la classe che dovrebbero rappresentare. Comunque continuiamo con queste classi medie, con gli appunti che ho dal punto di vista della miccia sociale questa non classe, che è la classe media, è quella che soffre di più nei momenti di crisi, essendo schiacciata, come dicevo prima, dalle due grandi classi della società capitalistica. In una situazione rivoluzionaria, essa, cioè il centro medio, potrebbe essere l'ago della bilancia, lo diceva anche Marx, è per quello che lo teneva, la teneva in debita considerazioni. Economisti come Paul Krugman dimostrano, dati alla mano, che in paesi come gli Stati Uniti la middle class, che comprende anche i lavoratori con un alto salario, sta praticamente scomparendo. Se la lotta in Francia si radicalizzerà rifiutando un interlocutore istituzionale, allora potrebbe diventare contagiosa, coinvolgere altre componenti sociali e portare scioperi, forse ad oltranza, magari iniziando proprio dai camionisti, quelli che possono bloccare con estrema facilità gli snodi stradali e le arterie vitali, perché le strade sono come le arterie del corpo, dove attraverso i magazzini che ormai sono sui camion possono bloccare una produzione e quando l'aumento della produzione, l'aumento del pil, scusate, viene calcolato in zero virgola, anche un piccolo intoppo può far saltare quello zero virgola, il virgola che viene dopo e quindi questo allarma molto la borghesia. La Francia ha una bassa resilienza, la capacità di un metallo oppure di un sistema di resistere al cambiamento, il governo centrale è funzionale, lo Stato è presente ma risponde lentamente ai ripentini cambiamenti sociali, al contrario invece l'Italia che nonostante sia malmessa a livello istituzionale è invece in grado di a tutti i ricolpi, non a caso è nato qui il trasformismo opportunistico. Sabato 8 dicembre di quest'anno nella trasmissione televisiva alle parole della settimana che è trasmissione condotta dal giornalista Grammellini, il giornalista del Corriere, l'ospite di questa trasmissione Giovanni Minoli, figura storica del giornalismo televisivo, alla domanda del conduttore se anche in Italia c'era la possibilità che si potesse assistere alla nascita di un movimento come i gilet geleri gialli in Francia risponde che noi i geleri gialli li abbiamo già al governo e sono i cinque stelle, quindi la borghesia più vecchia del mondo, viene citato anche da Marl sul capitale che è l'Italia, ha preventivamente capito prima che è meglio incanalare il malcontento, anche noi abbiamo avuto una bassissima percentuale di votanti alle ultime elezioni e il Movimento 5 Stelle, soprattutto questa parte, ha raccolto il malumore di quelli che sono andati a votare, li ha incanalati, li ha messi là e ora questi stanno cambiando modo di pensare e di agire e un po' alla volta, se voi fate le analisi, non sto io qui a tediarvi su questo, da come sono partiti a dove stiamo andando con queste parole d'ordine del Movimento 5 Stelle ma anche della lega di Salvini e questo fa ancor più demoralizzare un possibile, un probabile movimento e quindi dovrà riorganizzarsi per forza di cose perché la crisi porterà comunque le persone a muoversi. Quindi i 5 Stelle, noi i mulgetti, i gile gialli li abbiamo già all'interno del Parlamento, ciò significa che ancora che la nostra borghesia, sui miei appunti, la più vecchia del mondo, è riuscita ancora una volta ad anticipare tutti, incanalando la rabbia, tutte le altre nazioni, incanalando la rabbia sociale, portandola al Parlamento e quindi all'interno di quei vincoli di questo gioco, fra virgolette, democratico e in tal modo dimostrano che con gli slogan non si governa. Infatti Salvini è quello che si dimostra più pragmatico e del mondo imprenditoriale si rivolge a lui, le ultime poi ha spiazzato Salvini anche Di Maio dove Salvini dà ragione a degli imprenditori e non è ministro della, lui è il ministro degli interni, non quello dello sviluppo che è Di Maio e quindi sta portando via, fra virgolette, il lavoro. Bisogna inoltre notare che in occidente la popolazione attiva si dedica per il 50-60% ai servizi, quindi la popolazione alternativa per la maggioranza è dedita ai servizi e non direttamente alla produzione, mentre altrove la stessa quota di popolazione è impiegata nell'industria. La situazione occidentale è irreversibile, non si torna più al 60% del pil dovuto alla produzione industriale, né tantomeno la Cina avrà il tempo di rinconvertire la sua economia al terziario. miliardi di persone che non producono più valore sono così destinate a finire nella sovrappopolazione assoluta e dovranno necessariamente ribellarsi. Sullo sfondo di una società che non funziona più vengono a mancare le salvifiche proverbiali, corrutrici, bricciole del banchetto, cioè non ci sono più bricciole per nessuno. I movimenti nel nostro tempo più che ad un partito o ad un sindacato assomigliano nel loro modo di funzionare a un organismo cibernetico, un qualcosa che riceve dati dall'ambiente e a seconda di come è regolato aziona dei dispositivi che producono una variazione dell'ambiente stesso. questo esempio lo abbiamo chi ha sentito, una trasmissione invitavo andare a sentire, la trasmissione sul Politecnico di Torino, sull'ambiente proprio facevano l'esempio delle, non è un rivoluzionario il nostro modo di pensare verticistico, ma quello delle piante che hanno attraverso i loro sensori riescono a cambiare, lo sensore nell'ambiente riescono anche a cambiare e quindi ad adattarsi meglio all'ambiente. La rappresentazione più semplice di questo comportamento è una sequenza del tipo che succede la tal cosa, allora agisci in tal modo, altrimenti un dall'altro. reagisce così un corpo vivente, una macchina progettata allo scopo, una società intera o una parte della società. Almeno dal 2011 il movimento globale di rivolta sta assumendo caratteri autopoietici, ovvero di auto-organizzazione. Oramai non è più possibile organizzare lotte riproponendo le strutture rigide e verticali di una volta, vedi sindacato, partito, eccetera. Con la rete gli attomi sociali si coordinano in maniera automatica e non hanno bisogno né di capi né di strutture burocratiche. Non c'è nessun comitato centrale che decide il da farsi. Il movimento si organizza da sé e si auto-aggiusta strada facendo. C'è un risvolto politico che dovrebbe preoccupare i capitalisti e i loro rappresentanti dello Stato ed è da distanza che separa sempre più la popolazione dal potere centrale. Se si toglie tutto a una popolazione, dal lavoro alla possibilità di riprodursi in un ambiente artificiale, connaturato al sistema di consumi, può scattare l'indifferenza. Già di per sé negativa per un sistema che ha bisogno di essere amato, celebrato e obbedito. Essa potrebbe essere il primo gradino verso una ribellione. I giornalisti e gli economisti meno ottusi si rendono conto, e l'abbiamo dimostrato prima, che negli anni si è approfondito il solco tra cittadini e istituzioni. Lo dimostrano la crescente astensione e lo svuotamento dei sindacati e partiti in Italia. Il Movimento 5 Stelle, che per qualche anno è riuscito a depotenziare la collera sociale, ha fatto il suo tempo integrandosi nel sistema. E' molto probabile che sull'onda dell'esaurimento della spinta grillina emergano fenomeni radicali di tipo nuovo. E deve essere chiaro che qualsiasi movimento contro, come poi lo può essere dei gile gialli, come poteva essere quello venuto in Italia dei forconi, ha solo due possibilità. Per continuare a manifestarsi, o maturare verso forme radicali, dandosi però nel contempo obiettivi e d'organizzazione, o intregarsi nella pratica politica corrente. Non ci sono alternative. Se il movimento continua così, ad essere etereogeneo, non avere obiettivi, non avere organizzazione, ad essere così spontaneo, non andrà da nessuna parte. E questo è un dato fondamentale. E' certo che il movimento sbatterà contro determinati muri e questi faranno cambiare anche obiettivi, modi di pensare. E sorgerà l'esigenza, per esempio anche dei movimenti gialli, di avere un'organizzazione dove proteggersi dai provocatori, dove sintetizzare le parole d'ordine. O si matura in questo modo, o si viene integrati, come è successo, al Movimento 5 Stelle all'interno di questo sistema e vediamo la fine che stanno facendo i 5 Stelle e il Movimento di Salvini. Per questa sera penso di aver finito, anzi ho finito. Vi ringrazio ancora una volta di avermi ascoltato e il prossimo appuntamento fra 15 giorni. Ciao e buonasera a tutti. Ciao e buonasera a tutti.